Bentornati su MyFootballJersey. Vediamo oggi la seconda maglia del Newcastle per la stagione che sta iniziando, che anzi che è iniziata. Questa è un'edizione FUN. La stagione FUN. Il Newcastle è sicuramente una delle squadre di ribellazione della scorsa stagione e quest'anno punta forte con i nuovi acquisti a fare un grandissimo campionato. La maglia è molto bella, il costo, lo vedete qui sopra, veramente incredibile. Se volete ordinare la maglia trovate qui sotto in descrizione tutti i riferimenti. Andate a vedere perché c'è anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari, quindi il costo diventa ancora più conveniente. Prima di lasciarvi vi chiedo di iscrivervi al canale. Spingete questo benedetto pulsante. A voi non costa nulla ma ci permette di offrirvi sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione FUN.